Grazie per la visione! Purtroppo loro hanno avuto un giocatore che è stato un giocatore e con le altre le abbiamo contenute e a pari ruoli sono stati diversi anche negli di loro. Tra loro hanno stato un giocatore che ha passato di connessi in attacco e non ci ha mostrato a contenerlo e quindi tutto il giocatore è stato un giocatore.